Il ritorno di Samsung nella videopressione casalinga avviene con due proiettori di LP a tiro cortissimo. Abbiamo provato il modello LSP9T da 2800 lumen con tre laser puri, copertura totale dello spazio REC BT2020 e il rapporto di tiro più corto sul mercato, così corto che consente quasi di appiccicare il proiettore davanti allo schermo. Un tiro così ridotto in realtà è un'arma a doppio taglio e bisogna scegliere le superfici di proiezione con molta attenzione. Qui stiamo proiettando su uno schermo LR che aumenta sì il contrasto in ambienti illuminati, ma sacrifica il guadagno e quindi anche la luminanza effettiva. Al centro potete asservare una superficie bianca a guadagno unitario decisamente più luminosa. Il Samsung LSP9T può illuminare schermi fino a tre metri di base con guadagno unitario. Per gli schermi LR invece non bisogna superare i 2,2 metri di base. Presso gruppo Garman a Roma potete osservare il nuovo Samsung perfettamente tarato su uno schermo LR da circa 100 pollici e farvi un'idea delle prestazioni anche con luce in ambiente. Il proiettore una volta calibrato si comporta molto bene, anche se, bisogna dirlo, potrebbe mostrare il meglio di sé con dei contenuti che sfruttano realmente lo spazio colore REC 2020, che sono purtroppo praticamente introvabili.